Ma c'erano tutte queste alghe quando siamo passati qui ieri sera? Ah, io me ne infischio delle alghe. Sai che ti dico, mi fanno un baffo. Gliatta! Prendi questo e questo! Ragazzi, queste non sono alghe! Sorpresa! Marina, ma come ti sei conciata? Mi sono vestita per l'occasione. E l'occasione quale? Via, 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 via! Acciappateli! Non vi fermate! Mi hai fatto un... male! Da questa parte è svelto! Dov'è Sebastian? Il potere mi piace tanto, Sebastian, e non ho intenzione di rinunciarvi! Fatti sotto! Con immenso piaccio! Vieni da papà! Guarda! Guarda! Vai! Fuoco! Sì, siete grandi! Ah, questa se la ricorderanno. E anche per parecchio. Sebastian è nei guai! Seguitemi! Andiamo! Ti seguiamo con te! Ah! Il cario! Au! Ariel! Ti è piaciuto? Un po' stretto? Sei... Odioso! Ho vinto!